Pregate e riparate. 27 maggio 1971. Figli miei cari, la pace e la grazia che emanano dal mio cuore siano ora e sempre nei vostri cuori. Io sono il vostro Gesù di misericordia e mi presento a voi col cuore circondato da spine, sormontato da una croce e attorniato da fiamme. Vorrei attirare la vostra attenzione e i vostri affetti e chiedervi un dono d'amore. Voi trascorrete la vostra ora in preghiera e date riparazione al mio cuore. Io vorrei, però, che ogni giovedì mi offriste una comunione ben fatta, in riparazione delle molte comunioni sacrileghe che si vanno facendo in tutto il mondo. Sono molti i figli che mi accolgono in cuori che puzzano di peccato e di inferno. È come se voi foste legati strettamente con dei cadaveri ambulanti. Quanto desiderio avrei di giovare e di medesimarmi con tanti figli che si accostano all'altare. Ma questi incontri segnano veramente una condanna per me e per loro. Per me. Perché mi rinnovano le sofferenze della mia passione. E per loro, poiché ne verranno delle conseguenze ben gravi. Alla tavola del Cenacolo erano dodici gli apostoli e tutti si erano comunicati. Uno di essi però aveva fatto una comunione sacrilega, e da quel momento il demonio entrò nel suo cuore. Vi domandate alle volte perché mai molti figli, che si sono comportati sempre in modo esemplare, ad una svolta della loro vita cambiano completamente rotta e, aggiungendo peccato a peccato, diventano insopportabili a Dio e agli uomini. Eccovi la ragione. Una comunione sacrilega ha aperto la strada al demonio, che è diventato il vero padrone di casa in quell'anima. Temete, figli, il sacrilegio come temereste di assumere del veleno. Il sacrilegio è il veleno che distrugge la fede e la bontà, e che rende incapaci di dominarsi. Si dice degli antichi ebrei che mangiarono la manna e morirono. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita e il pegno della vita eterna. Ma chi mangia indegnamente si vota alla morte e, se non chiede misericordia al Signore e non riceve il suo aiuto, si vota alla morte eterna. Vorrei anche pregarvi di riparare, con particolare intenzione, le sante messe celebrate in peccato mortale. Purtroppo, il fango è salito e sale continuamente fino all'altare del sacrificio. I gigli viventi, che formavano l'oggetto della mia tenerezza e che mi donavano il proprio candore, sono diventati così rari che i rimasti meritano il titolo di privilegiati, a cui io mostro veramente il mio volto in quella chiarezza di vedute, quella limpidezza di fede e quell'ardore di carità che li distingue. Ma, figli miei, perché? Perché si moltiplicano i giuda che mi calpestano e mi trattano come un nemico. Forse pregate e vi sacrificate troppo poco per i vostri sacerdoti. Riparate, sostituite, pagate e supplicate per loro. Che vi debbo dire, figli, di quelle spose che ricevono il sacramento del matrimonio con l'abito candido, mentre hanno provato tutti i peccati di lussuria e tutte le sconcezze del mondo? Figli, pregate e riparate. Perché sono troppe le famiglie che cominciano con il sacrilegio? Che ne sarà in seguito? Sarà una catena di peccati. Figli cari, forse che il sesto comandamento è tramontato dalla mente e dalla condotta di tutti? Eccovi dunque le spine che circondano il mio cuore. Quelle che sostituiscono i gigli che dovrebbero profumarlo. Ma vedetemi ancora ardente d'amore e desideroso solo di aiutare tutti. La mia misericordia infinita deve ricadere su tutti. Occorre solo un risveglio di fede e una spinta. Che venga a tutti per mezzo della preghiera. Esaudite i miei desideri. Io soddisferò i vostri. Vi benedico, figli.